La primavera del turismo. Se ogni Pasqua ha la sua sorpresa, a Vicenza l'incognita era l'attrattività della città del Palladio alla prima grande prova del post-emergenza sanitaria. E il ponte ha registrato numeri record, 5.000 contatti all'ufficio informazioni turistiche, soprattutto famiglie e coppie italiane, ma non sono mancati gli stranieri, pari al 9,5% del totale dei visitatori. La maggior parte, il 32% tedeschi, il 16% spagnoli, il 15% francesi, a seguire belgi, ungheresi, polacchi e croati. Camere d'albergo occupate dal 70 fino addirittura al 100%, dati molto incoraggianti nei quattro giorni tra venerdì e Pasquetta. Se queste sono le premesse, quella che si preannuncia è una stagione boom.